Musica Ho fermato la cena per stasera Mi sono dimenticata la cena Spezzatino di acquino pronto in 3 minuti Ragazzi per questa sera tutto a posto Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti, ci ha messo solo 3 minuti Giovanni Coppiello Il piacere del gusto Da una tradizione centenaria Beato Edoardo Materiali Ferrosi Una grande azienda Una storia iniziata nel lontano 1933 Da una famiglia di Fabri Ferrai Azienda ancora oggi a conduzione familiare Beato Edoardo Materiali Ferrosi A Santa Maria di Sala, Venezia Vendita all'ingrosso di laminati Trafilati, tubi, lamiere, travi profilati Taglio lamiere e taglio profili Servizio di ossitalio Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati Per offrire una vastissima gamma di prodotti Sempre disponibili Per soddisfare le esigenze Di qualsiasi tipologia di cliente Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili Con propri mezzi in tutto il Veneto Beato Edoardo Materiali Ferrosi Un servizio in continua crescita e miglioramento Giorno dopo giorno Beato Edoardo Materiali Ferrosi A Santa Maria di Sala, Venezia Una famiglia, una storia, un'azienda Dal 1933 L'unico razzismo che esiste in Italia E' quello contro il popolo italiano Massacrato di tasse Per mantenere finti profughi Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet Ben ritrovati di cuore anche oggi Con la nostra opinione giornaliera Che vi aggiorna, che vi forma E che vi fa un po' di buona compagnia Devo chiedere al mio editore Il buon Alessandro Brunello Di allungare un po' la durata della mia opinione Sono tanti, troppi gli argomenti Di cui mi devo occupare tutti i giorni Ho una ghiacciaia piena Di contributi, elementi preziosi Da portare alla vostra conoscenza Dovete essere debitamente informati Oggi ho scelto di dedicare La mia copertina, la mia apertura A un bravo vignettista Crancic E' una vignetta Estremamente ricca Ti fa capire tante cose E la rivolgo Agli amici del politicamente corretto Ai tanti sacchetti a perdere anonimi Che mi censurano Anzi, caro Matteo Rossi Che sei in regia Questa vignetta Deve diventare una pietra miliare Un contributo fisso Delle mie trasmissioni L'opinione e la voce del nord-est Finché non toglieranno Quel famigerato reddito di cittadinanza L'Italia E' diventata la discarica sociale Del continente Tutti vengono a bussare alla porta italiana Tanti sacchetti a perdere Stranieri Hanno capito ormai L'andazzo Rischiano un viaggetto E vengono A stare bene Molti Di questi falsi profughi Attenzione Ascoltate bene Percepiscono il reddito di cittadinanza Ve lo giuro davanti a Dio Ma vi rendete conto? Con 800 euro al mese Lì vivono 10-20 famiglie Ma il bello è che Questi soldi pubblici Vengono distratti Da altre persone bisognose Questi soldi potrebbero essere utilizzati Per venire incontro agli italiani Ai nostri connazionali E allora bravo Krancic Meriti un posto fisso Nelle trasmissioni di Enzo Spatalino Dai regia C'è un'imbarcazione che si avvicina Al territorio italiano E ci sono due elementi Sicuramente islamici Uno dice Una volta in Italia Che facciamo? Gli risponde il compagno Chiediamo subito Il reddito di cittadinanza Vedete Il territorio italiano si riconosce anche Dalla bandiera Successo fra i migranti Del reddito del Movimento 5 Stelle Purtroppo questa è la triste realtà Il Movimento 5 Stelle Come dico io Da mesi Ha costruito Le sue rendite Di ricchezza Di posizione Proprio Sul reddito di cittadinanza Se c'è ancora gente Che vota Il Movimento 5 Stelle Sicuramente Per la gran parte È gente Che percepisce Il reddito di cittadinanza Ha provocato Tanti danni Ci sono migliaia di persone Che preferiscono Prendere il reddito Piuttosto che lavorare Un danno All'economia nazionale E loro si ostinano ancora Ad aggrapparsi A questa loro creatura Abominevole Maledizione Ah se ci fosse un po' di giustizia Ah se Draghi mi accontentasse Se Draghi usasse le maniere forti Per ripristinare l'ordine La disciplina Il rispetto delle regole L'onestà Abbasso l'ipocrisia Abbasso la falsità Trasparenza nei rapporti Ma rimarrà Il mio un sogno Nel cassetto Adesso a seguire In ordine di importanza Altre notizie Ritornano ogni tanto Certi personaggi Ve la ricordate? Elsa Fornero Sì Molti la ricorderanno Quella dal pianto facile Con Monti Quel giorno In una conferenza a Roma Non la dimenticherò mai Quella scena Mentre parlava Si emozionò Alcune lacrime Rigarono Il suo Non più giovane volto Elsa Fornero Elsa Fornero Ritorna nel governo Vergognatevi Mi meraviglio come Matteo Salvini Riesca A far parte Di questa compagine Governativa All'interno Della quale Ci sono tanti Elementi Spuri Elementi che Secondo me Non meriterebbero Di far parte Del governo Diamo spazio Dai regia Accontentami Diamo visibilità A Elsa Fornero Per quei pochi Che non La ricordassero Il ritorno Di Elsa A Matteo Tocca subire La Fornero Al governo Qui la vediamo Sorridente Non sta Piangendo Ha anche Dei fiori In mano L'ex ministro Del lavoro Di Monti Diventa Consulente Per le politiche Economiche Dell'esecutivo E il carroccio Cioè Il partito Della Lega Si infuria E' stata scelta La persona Sbagliata E ancora A seguire A volte Ritornano Fornero Nuova Consulente Del governo Prima mossa Rinviare I pensionamenti E l'altro giorno Ha detto Ascoltate bene Gli anziani In salute Continuino A lavorare Signora Fornero Gli anziani In salute Devono Continuare A lavorare Quello Che non avete Mai fatto Voi Mettetevi Nei panni Di un anziano Che ha lavorato Una vita intera Lavori pesanti Usuranti Ma voi Non capirete mai La situazione Di chi Veramente Versa In condizioni Particolari Voi siete Dei teorici Mi dispiace Che ricopriate Dei ruoli Importanti Credetemi Io non pensavo Che la Elsa Fornero Ritornasse A far parte Di un governo E questo Cosa sta a dimostrare Secondo voi Che nel governo Ci sono ancora Tanti Troppi Compagnucci Si respira Un'aria Sinistra Brutta Di sinistra Scusate Il gioco Di parole Stanno rovinando L'Italia Con quella Particolare Concezione Non c'è Niente Da fare Ci sono tante Scelleratezze Romane Come quella Per esempio Relativa Al clamoroso Caso Portato avanti Dall'avvocatura Generale Dello Stato Ma E' sempre Roma L'avvocatura Generale Dello Stato E' presieduta Da un avvocato Ma è sempre Il Presidente Del Consiglio Che Comanda Per chi Non sapesse L'avvocatura Generale Dello Stato Ha chiesto Un milione Di euro Di risarcimento Per Il libro Di Palamara Sallusti Che ha fatto Chiarezza Su certe Situazioni Brutte Relative A tanti Magistrati E se ne sta Occupando L'Europarlamento Mi auguro Che facciano Ogni tanto Qualcosa Di buono Perché hanno Voluto colpire Palamara E Sallusti Ma io Mi chiedo Ecco Vorrei In questo momento Essere Vicino Al Presidente Draghi Per dirgli Si è un Presidente Ma non sarebbe stato Più opportuno Sorvolare Vi siete Vendicati Contro Palamara Perché ha detto La verità Ha detto La sacrosanta Verità La fiducia È azzerata Da parte Dei cittadini Nella magistratura Il bello Che Sallusti E Palamara A tutt'oggi Non hanno ricevuto Ancora Alcuna Denuncia Vuol dire Che Hanno scritto Cose vere E allora Perché Tu Avvocatura Generale Dello Stato Porti avanti Questa denuncia Secondo me È inopportuno Loro hanno detto Delle cose Vere Hanno scalfito La ragione Che ha motivato Il tutto Risiede Nel fatto Che il libro Ha scalfito L'immagine Della magistratura Dello Stato Vedete Perché io Mi occupo Di questi fatti Noi siamo Liberi Siamo poveri Ma siamo liberi Ci è rimasta Questa grossa opportunità Parlando con voi Di informarvi Offri quel piccolo Contributo Sempre A beneficio Dei non credenti Dei tanti sacchetti A perdere Anonimi Che affollano La platea Dei miei Telespettatori E che ringrazio E che ringrazio D'altra parte Il caso All'Europarlamento Dall'avvocatura Querela Temeraria Il caso Del risarcimento D'anni Da un milione Di euro Presentato Dall'avvocatura Generale Dello Stato Per il libro Il sistema Arriva a Strasburgo E a seguire Dai Facciamo vedere Anche Palamara A proposito Delle toghe Sotto accusa Palamara Fa lo show Attaccano me Per nascondere I guai Della giustizia Qui vediamo Il dottor Palamara Purtroppo L'Italia Come dico io Da anni Sta lentamente Facendo una brutta fine Dove sono I valori Di una volta Mi fermo Una manciata Di secondi E dopo Devo dire qualcosa All'avvocato Del popolo Giuseppe Conte Che dopo Aver fatto Una sua Conferenza Dopo aver Sbraitato Tuoni E fulmini Si è recato Da Draghi E non ha combinato Un bel niente A fra qualche secondo Dati istro In Italia Più di 800 Forti al giorno Servono Contromisure Più efficaci La soluzione Elmo SPA Non è solo Il massimo Per quanto riguarda La sicurezza Contro furti E defrazioni Ma unisce anche Il bisogno Di comodità Integrando antifurto Video sorveglianza Domotica E antincendio In un'unica Piattaforma Gestibile Da smartphone Tablet E PC Completamente Prodotto E certificato In Italia Scopri anche Le soluzioni Sviluppate Contro la pandemia Da Covid-19 E i servizi Di vigilanza Personalizzabili Elmo SPA Global Security Solutions L'esperienza Del Cavaliere Emilio Conte Da 40 anni Mette a disposizione La sua professionalità Con l'azienda Fratelli Conte SNC Un'azienda Leader nel campo Della sicurezza stradale Con realizzazioni Di barriere Su strade Autostrade Parapetti metallici E in legno Pannelli Fono assorbenti Ringhiere E affissione pali Montaggio Carpenteria Per impianti Fotovoltaici A terra Soluzioni Anche personalizzate Fratelli Conte Vi offre anche Il servizio Di idoneità Terreno Fratelli Conte SNC È sinonimo Di qualità E sicurezza Punto di riferimento Nel settore Della realizzazione Di opere E sicurezza Stradale Fratelli Conte SNC Sinonimo Di qualità E sicurezza Ben ritrovati Gentili Telespettatori Di Prima Free E di Internet Condivido Il titolo Del giornale Il flop Di Conte Deve accontentare La base grillina No Poi Come un cagnetto Davanti a Draghi Offri Questo contributo La resa Dell'avvocato Il flop Di Conte Draghi Con la sponda Del Quirinale Respinge L'assalto Del leader Grillino Nessuna modifica La riforma Della giustizia Ira Della base Cinque stelle E a seguire Conte deve Chinare la cresta Davanti a Draghi E implora Un contentino Sulla giustizia Avete Avete Visto come si comporta Un flop Io quando penso Al caso Dell'avvocato Del popolo Mi chiedo Come sia possibile Che una persona Che non ha avuto Un solo voto Possa essere A quei livelli Romani Scelto All'ultimo momento In base a Delle amicizie Da uno studio Di avvocati E guardate Che carriera Fulminante Ha fatto Giuseppe Conte Nulla da dire Ci ha saputo fare Ci avrà messo Del suo Però lo vorrei Vedere Al confronto Popolare Vorrei vedere Cosa rimedia Giuseppe Conte Una parolina Dopo chiuderò Velocemente Con Erdogan Il sultano Erdogan Un altro Tipo Che vi raccomando Volevo Parlare virtualmente Con Draghi Di non Assecondare Certe Certe Richieste Lasciate Stare I ristoratori Quelli che Hanno un bar Scusatemi Se io Uso Un termine Italiano Perché io Perché io Sono Italiano Vorrei che Tanti giornalisti Abbandonassero La strada Degli inglesi Degli inglesi Green pass Ma parlate come vi ha fatto vostra madre Fatevi capire Lascia passare Disco verde Disco verde Sarebbe Una iattura Imporre Ai ristoranti Ai bar L'onere di identificare Chi Entra in un bar Già è un settore Fortemente Penalizzato State attenti a Roma Non fate ulteriori danni Lasciate stare Il lascia passare Lasciate che la gente Si possa recare In un ristorante In un bar Senza essere Identificata Peggio della Gestapo Dei nazisti Vai con il contributo Sono d'accordo Con la Confcommercio Inapplicabile Il lascia passare Per i nostri bar E ristoranti Lino Stoppani Presidente dell'EPA Mi ha detto Il controllo Dei documenti Sarebbe L'ennesimo Onere A carico Di gestori Dopo aver subito 300 giorni Di serrata E i locali Perderebbero Ad un tratto Il 50% Dei clienti Speriamo Che alla fine Prevalga Il buonsenso Del padre Di famiglia Parrucconi Romani Teorici Provate voi A gestire Un ristorante Un bar Provate voi A gestire Un'officina Meccanica Provate voi Ad indossare Per un po' Di tempo I panni Dell'artigiano Del commerciante Dell'operatore Economico Dell'imprenditore Della gente Che si fa Il mazzo Per sopravvivere E voi a Roma Fate i cesellatori Tanto troppo Empirismo La teoria Non vi porta Tanto lontano Dovete essere Pratici E chiudo Con una bella notizia Dai Ogni tanto Dall'Europa Provengono Belle Notizie La corte di giustizia Dell'Unione Europea Ha autorizzato I titolari Di azienda A impedire Alle donne Islamiche E non Che ci sono anche Le italiane Che ci sono Adeguate A non Indossare Il velo Islamico Che bella Notizia E ciò ha provocato La reazione Del sultano Erdogan Si è arrabbiato Erdogan Fatti Fatti I tuoi Pensa Alla Turchia E non ci rompe I cosiddetti Il datore Di lavoro Può vietare Alle lavoratrici Di indossare Il velo In ufficio Che bella Notizia Ma come può Una persona Bardarsi la testa E andare a lavorare In certe condizioni E Erdogan Si è indignato Perché ha detto L'Europa Non è musulmana Ha fatto un discorso Infuocato Da Cipro Nord Qui lo vediamo Durante un discorso Con a fianco Sarà la moglie Sarà l'interprete Non lo so Comunque Questa donna Anche lei Con la testa Ricoperta Dal velo Islamico E ora Definiamola Non potete Esportare In tutta l'Europa Il vostro Credo Islamico Io voglio Vedere La donna Col capo Scoperto Basta Trattare Le donne Come delle Schiave Perché Tali Sono Nella concezione Islamica Chi Non lo dice È un bugiardo Bara È uno Oggetto La donna Nella concezione Islamica E io Accolgo Con gioia Con soddisfazione Questa notizia Che viene Dall'Europa Io Imprenditore Ho il sacrosanto Diritto Di vietare Ad una mia Dipendente Di venire A lavorare Con la testa Fasciata Fatevi vedere Mostrate Le vostre bellezze I capelli Non nascondete Le cose E valga Il vero Anche per oggi Penso che Possa bastare Grazie Di cuore Per la vostra Cortese Attenzione Nei nostri Confronti Un grazie Doveroso Ai miei sponsor E un grazie Per la parte Tecnica Al nostro Regista In cabina Di regia Matteo Rossi Arrivederci